Si avvicina la settimana della festa patronale di Brindisi che avrà luogo dall'1 al 4 settembre e sono stati resi noti i riti religiosi che culmineranno il 2 e il 3 settembre. Come ogni anno giunge la settimana di solenni festeggiamenti che la città di Brindisi dedica ai propri santi patroni Teodoro da Masea e Lorenzo da Brindisi. Un'edizione che vede per la prima volta la presenza del nuovo vescovo Giovanni Intini e dopo oltre 30 anni del sindaco Giuseppe Marchionna. Con la processione delle reliquie della statua a linea di San Lorenzo da Brindisi dal Santuario di Santa Maria degli Angeli verso la Basilica Cattedrale prevista per oggi si apre la settimana di preparazione ai solenni festeggiamenti. Venerdì 1 settembre al termine della celebrazione eucaristica ci sarà la processione con la statua equestre di Santo Doro e la statua di San Lorenzo da Brindisi dalla Cattedrale all'incrocio dei Corsi con l'entrata nel vivo della festa attraverso l'accensione delle luminarie. Sabato 2 alle ore 19 la processione per mare con le reliquie e i simulacri dei patroni partirà dal porticciolo turistico verso la scalinate Virgilio dopo aver percorso il porto interno. Alle 20.30 invece davanti alle colonne romane i santi riceveranno l'abbraccio dei fedeli e le chiavi della città da parte del sindaco. L'arcivescovo Ventini invece rivolgerà il suo saluto e il suo pensiero ai Brindisini. Dopo lo spettacolo pilotecnico la processione raggiungerà la cattedrale. Domenica 3 settembre alle 20 l'arcivescovo presiderà il solenne pontificale nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo al quale sono chiamati a partecipare i fedeli Brindisini e il clero. Molte sono le iniziative spirituali, ecumeniche, di evangelizzazione, di carità e solidarietà nei confronti degli anziani e dei poveri, di carattere culturale, nonché quelle rivolte ai ragazzi e ai giovani. Al centro di questa edizione, l'attenzione per la realtà del nostro territorio, i talenti nostrani e il ruolo di Brindisi nel Mediterraneo, colta nella sua dimensione interconfessionale e interculturale. Ma anche esempi di santità, come quello di Matteo Farina e del sindaco Giorgio Lapira e di intergenerazionalità. Lunedì 4 settembre, con la messa di ringraziamento e la processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo verso il santuario di Santa Maria degli Angeli e della statua equestra di San Teodoro all'incrocio dei corsi verso la cattedrale, si chiudono ufficialmente i solenni festeggiamenti.